Le vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo la Costa e di San Benedetto Ullano, le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda Agricola De Caro, San Vincenzo la Costa, 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Un mio personalissimo amico da oltre un quarto di secolo, Roberto Davi, si parla di DJ, speaker, dunque musica radio, in radio, nelle web radio, visto la nuova tecnologia dell'ultima generazione e poi anche in discoteca. Come infatti dicevo per l'appunto Roberto Davi. Ciao Riccardo, buonasera a tutti quanti telespettatori. Allora Roberto... Mi devo abituare perché telespettatori per me è una cosa nuova, questa è una cosa che mi mancava. Noi sai che noi tutti che lavoriamo in radio, anche io insomma lavoro da oltre 30 anni in radio, abbiamo questa cosa sul collo, no? Video, kill, the radio star, dunque quando siamo in televisione stiamo sempre un po' così attenti. E uscì proprio l'anno in cui io cominciai a fare questo lavoro. E a proposito, raccontaci un po' di questa tua lunga carriera, oltre 30 anni, dunque le premissime radio in FM. 35 compiuti a settembre, sì. Ti ricordi il primo disco in assoluto che hai messo in radio? Paul Savu, Rock'n'Roll in Disco King. Ah, non dico di cantarcelo adesso, di suonarcelo, però comunque... Oddio, adesso poi andando avanti coi tempi mi sono dedicato anche a serate di karaoke, ma ne parliamo dopo. Ecco, come è cambiato il mondo delle radio? Il mondo delle radio è cambiatissimo, nel senso che io ho fatto il mio esorde in radio, era contro un piccolo aneddoto. Allora, ricordiamo, il giradischi c'era il giradischi, c'erano le cassette che si tiravano indietro col dito, col dito, con il nastro pubblicitari, il jingle, queste cose. Era un mondo diverso, sicuramente da quella che è la radio di oggi, o che è stata la radio degli ultimi dieci anni, ma ne parleremo dopo, ne approfitto per parlare poi dell'emittente in cui io... La tua nuova esperienza è che è una web radio, dove tu trasmetti tutti i giorni, ed è un mondo completamente diverso, anche perché è un mondo che apre orizzonti che vanno oltre l'Italia, oltre le FN. Gli esordi, come ti dicevo, il 30 settembre 1980, alle 4 del pomeriggio, in una radio che era piccolissima, perché allora, tu ti ricorderai sicuramente, c'erano un sacco di radio, perché chiunque poteva aprirsi una radio, bastava un piccolo trasmettitore, erano le cosiddette radio di quartiere o di paese, che poi piano piano, se c'era la possibilità, si espandevano o meno. Diciamo un po' che le radio private sono state un po' la derivazione dei CB. Ecco, esatto. Io arrivavo dai garage, nel senso che facevo le feste, avendo allora 15 anni, facevo le feste in un garage che avevo adibito a pseudo discoteca, e si lavorava con il compatto, bravo, la palla di vetro con i vetrini. Sì, esatto. Dal super telegattone di storie di Gattoni TV. Bravo, esatto. L'esordio avvenne perché chiedetti a un mio amico, che già lavorava in questa radio, lui era il direttore artistico, di farmi entrare, perché mi era sempre piaciuto il mondo della musica, a casa mia anche e soprattutto, sono stati tutti amanti della musica, lo sono tuttora, con una piccola bugia. Sì. Gli dissi che ero già in grado di fare questo lavoro, e lui essendo mio amico mi disse va bene, vieni questo pomeriggio, ti faccio vedere come funziona, e naturalmente era molto diverso, perché io lavoravo col compatto a casa per fare le feste che allora si usava a fare in casa, e mi trovai di fronte a quella che era la tecnologia dell'epoca, come dicevi giustamente tu, i due giradischi, il mixer a 26 canali, e non sapevo neanche qual era, voglio dire. E poi soprattutto i consumatori per le uova che si mettevano sul mare. Che non c'erano in questa piccola emittenza. Mi hanno detto che l'audio migliore lo si ottiene mettendo la faccia dentro una scatola delle scarpe, o addirittura dentro un armadio con i vestiti. Ah, è vero, compatto. Potrei parlare di un nostro caro amico, un DJ che va per la maggiore in una radio importante, che tutte le materie trasmette da casa dall'armadio dei vestiti, dall'armadio con dentro i vestiti, e più vestiti ci sono, più l'insonorizzazione è migliore. Però questo magari sarà un altro punto. Allora io non lo sapevo, come ci proverò comunque. Ecco, il nome della radio, della tua prima radio? Radio Studio Est di Pioltello. Pioltello, dunque, insomma, alle porte di Milano. Alle porte di Milano. Che aveva un raggio d'utenza di qualche, pochi chilometri. Sì, pochi chilometri, perché all'epoca, come ti dicevo, poi c'era una frammentazione esagerata, perché chiunque poteva pressione a radio, chi aveva la disponibilità, i prezzi delle frequenze erano bassi. E feci così l'esordio con il disco di Paul Sabu. In quell'epoca usciva anche il disco Video Kid da Radio Star dei Buggles, che sarebbe stato poi... Dunque, lontano dalle telecamere, ti sei sempre tutto lontano dalle cameri. Molto lontano dalle telecamere. Ho avuto poi una breve esperienza anche televisiva come conduttore di TG, che, nonostante il mio bel viso, sfatto da 35 anni di attività notturna e diurna come DJ, andò in onda in Liguria, che è stata la mia, diciamo, terra dei fuochi, fra virgolette, nel senso che fuochi e l'artificio come DJ, come speaker, principalmente li ho avuti lì. Nel senso che... Perché tu sei milanese e parte da Milano professionalmente. Allora, poi ti trasferisci per un po' di anni in Liguria, no? Dall'84 al 2002. Dunque, il boom delle radio locali, delle radio pirate. Il boom delle radio locali, le prime radio importanti, con una breve pausa, nell'87, quando ebbi l'onore poi di conoscere anche te. Ci siamo conosciuti a Via Radio, che era un'attività di mezzo, anche qui alle porte di Milano, però una radio che faceva già un bel bacino, aveva già un bel bacino regionale, anzi, oltre i confini della Lombardia. Esatto, sì. Era una radio che aveva già anche un buon numero di ascoltatori. Poi la frequenza venne ceduta a Kiss Kiss di Napoli. Ecco, e fui io a cedere il testimone agli amici di Kiss Kiss. Mi ricordo, in una domenica mattina si erano interrotte le trasmissioni di Via Radio per passare a Kiss Kiss, poi io da lì, poi era il 1988, giù di lì, e poi io andai, insomma, a Radio 105 dove ci sono attualmente. Ma non è che dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di me. No, no, ma è un'esperienza comune. Esatto, però questo è stato il nostro momento di vita artistica, che abbiamo vissuto insieme. Ecco, la differenza tra una radio privata milanese e quella ligue, ne possiamo trovare? Sì, dunque, innanzitutto all'epoca il DJ o lo speaker, se si parla ancora di radio piccole, si portava i dischi. Comprava i dischi lui perché nel 95% dei casi, per stare stretti, l'editore non acquistava i dischi. No, no. Quindi ogni speaker si portava i suoi dischi ed era assolutamente geloso del suo vinile, delle sue cose. La differenza tra Lombardia e Liguria ai tempi era che in Lombardia, quando usciva un disco, arrivava, c'erano tanti grandi negozi, come Mariposa, che adesso non c'è più. Faccio un saluto ad Angelone, caso mai ci guardasse. L'import era assicurato su Lombardia e magari qualche altra regione un po' più importante di quella che non era la Liguria. I dischi ci arrivavano un mese dopo. E non era bello questo, però anche la gente... E tu come ti accorgevi di una novità che era uscita, diciamo, a Milano? Senza avere internet, perché non c'era neanche internet. Liguria un mese dopo. Ai tempi non si poteva scaricare, diciamo... No, esatto, bisognava proprio andare in negozio... Non c'erano i pirati. No, infatti, aspettare che arrivasse la novità. Allora, cosa succedeva? Io ogni weekend prendevo il mio bel treno, perché non avevo ancora la patente, facevo la spola da Albenga a Milano. Ascoltavi le radio di Milano. Esatto. Oppure mi informavo tramite billboard o i giornali. E poi anche internet, voglio dire, nel 1984. Non c'era. Quindi non ho proprio... No, assolutamente. E quindi si faceva così, si portavano le novità, che però ovviamente venivano recepite dal pubblico della Liguria con un po' di ritardo. Era bello mettere la novità. Era pusorario, insomma, ecco. Esatto. Era pusorario di un mese. Di un mese, che non è poco. Un mese è la migliore dei casi, poi ci sono stati anche dei casi... Poi comunque diciamo che tutti sono informati, con l'avvento di internet, anche la Liguria poi è cresciuta dal punto di vista musicale, tant'è che da lì poi è partita anche la mia carriera a livello di DJ, con prima piccole discoteche, poi invece entrando nel circolo che è stato il nuovo movimento underground della fine House, nella fine anni 80, inizio anni 90, la Liguria è stata, anche se pochi se lo ricordano, la culla del movimento House Deep Underground. Genova e Chiavari in maniera particolare, poi un fenomeno che si è spostato in Toscana, nella Versilia, che insomma ha dato vita a un movimento dance, niente male, che almeno fino al 99-2000 è stato anche eccitante da seguire, stancante, perché c'erano anche gli after hour, che vuol dire, lo dico a chi magari non lo sa, fare la serata in discoteca e partire alle 21, perché all'epoca le discoteche aprivano alle 9 di sera, e alle 10 era già tutto bello pieno. Verso mezzanotte cominciavano a chiudere, adesso invece aprono le 2 di notte. No, no, si chiudeva magari anche alle 5, io ho fatto delle stagioni estive, 7 su 7, dalle 21... E poi le discoteche, ne parleremo perché è un'altra parentesi della tua vita, che tuttora comunque frequento, perché fa ancora serata in discoteca. Ecco, allora Radio Studio Est a Milano, parentesi poi a Via Radio, Radio Lombarde, e poi in Liguria quale radio? E poi in Liguria con tante radio, ne ricordo qualcuna con molto piacere, Radio Liguria International, Radio Onda Ligure 101, che ancora esiste, ed è da anni la radio più ascoltata nella regione Liguria, Liguria per quanto riguarda la fascia che va da Savona fino a Ventimiglia, Radio Ligure 3, un esperimento addirittura di musica R&B, fatto nel 1990, prendo una radio io personalmente, con altri amici che... In FM? In FM, sì, che era Radio One di Alassio, che trasmetteva musica che all'epoca lì, come ti dicevo prima, non si sentiva. seguivamo, ero amico di Old Ani e Braccia Larga, due colleghi dell'ex Radio Milano International, One on One, e eravamo un gruppo di DJ, ai quali piaceva questo genere musicale, abbiamo voluto fare un tentativo, lo chiamo tentativo perché è durato tre anni, comunque... Sì, 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 comunque era... Avete avuto un modo di sperimentare questo tipo di musica in una regione che arrivava leggermente in ritardo rispetto... Recepiva in ritardo, ma non per colpa della Liguria o dei negozianti. Per colpa di quello che era il momento storico. Sì, esatto. Senti, gli ascoltatori, dunque ovviamente ai tempi... Si raccoglieva con le dediche richieste. Si raccoglieva con le dediche richieste, insomma, abbiamo fatto tutti questa strada. E come veniva per te? Tu alle quattro del pomeriggio, ovviamente avevi i tuoi fidelissimi, i nuovi ascoltatori, ti chiamavano, ti chiedevano le canzoni, si informavano... Sì, sì, si passava da Paul Sabu a Sara Perchettiamo degli Chiepoveri, a Paolo Barabani di O Pop Somarello, a Johnny Elmeri di Loverpalmer, per dire... Non c'era... La radio allora era veramente l'espressione di colui che si presentava davanti al microfono e voleva proporre la sua musica. Io ovviamente non voglio essere polemico con i network, questa cosa qui non c'è più adesso in FM, perché si sa che nella maggior parte dei casi le scalette, non dico che sono pilotate, ma quasi, insomma, sono... Ecco, sono guidate, è una cosa che... Tu non vuoi fare polemica, però mi sembra chiaro quello che tu hai detto, forse i network hanno un po' ucciso quella che era la spontaneità degli ascoltatori, che veramente in ogni momento della giornata potevano chiamare e richiedere una canzone, è molto più ruspante la radio di 40 anni fa rispetto a quella di oggi, dove invece è tutta programmata, ovviamente ci sono scalette che sono state stilate magari qualche giorno prima, perché tutto fa parte di formate che sono già stati definiti. Ecco, forse manca quella spontaneità che tu hai vissuto agli inizi della tua carriera. Manca il contatto diretto con quello che è l'ascoltatore, medio o anche alto, perché appunto c'è stata questa segmentazione della musica, devono passare quei 40 pezzi e quelli sono, non c'è verso. Tu puoi essere il DJ più bravo del mondo, a parte qualche caso, parlo di Albertino e del suo DJ Time, ormai sono 25 e passa anni che va in onda. Lui ha un format che segue, ma è quello, nel senso è lui che propone i suoi dischi e li fa viaggiare. Anche in qualità di produttore disco grattico, ho visto che effettivamente far passare i pezzi in quel determinato programma fa funzionare. Hai mai prodotto un disco? Ne ho prodotti quattro, i primi tre erano ovviamente cose fatte, non dico per fare, ma per entrare sul mercato, una grossa soddisfazione nel 94 con un progetto che si chiamava Humanize, Do You Know My Name? che ha avuto sviluppi anche all'estero e abbiamo fatto quasi 150 mila copie, che per un pezzo dense non è assolutamente male. Poi parleremo invece anche del tuo rapporto con le ascoltatrici, perché immagino anche tu qualche appuntamento al buio adesso non voglio mettere No, 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 ma io mi imbarazzo. L'attuale situazione familiare, però insomma ai tempi eri single, dunque probabilmente qualche appuntamento al buio l'abbiamo fatto un po' ultimo. Ho fatto qualche tentativo di rimanere single, ma diciamo che era difficile, anche perché la figura del DJ, insomma bene o male, ha sempre avuto un rapporto privilegiato con quello che... Anche perché ai tempi, è vero, tu non vedevi gli ascoltatori, noi non vedevamo gli ascoltatori, ma gli ascoltatori non conoscevano noi perché non c'era internet e veramente chi era dall'altra parte del microfono era un perfetto ascoltatore da un punto di vista fisico, ci si innamorava solo ed unicamente della voce, della voce, di fare e tutte queste cose. Va bene, ci fermiamo un attimo, poi torniamo ancora con Terminal 1, questa sera parliamo di musica in generale, di radio, di discoteche, con un grande DJ, con un grande speaker, che è Roberto Davia, tra poco. Medianews opera da dieci anni nel settore della comunicazione. La parte videogiornalistica si avvale di una redazione composta da professionisti e di una struttura tecnica all'avanguardia. I 400 metri quadrati di studi e uffici a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, consentono la produzione di numerosi format. Ben ritrovati i nostri telespettatori, nuova edizione del nostro telegiornale. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Altro Studio Sport. La rete capillare sviluppata con le emittenti locali presenti sul territorio italiano, cresciuta negli anni, permette a Medianews di disporre di numerosi contenuti, sport, cronaca, politica e di poter veicolare le proprie produzioni su molteplici testate presenti sul territorio. Tra i clienti dell'agenzia ci sono Ansa, Corriere dello Sport, Tutto Sport, ADN Kronos, Yahoo, Perform, Eurosport, La7 e molti altri ancora. Insomma, torniamo con Terminano, torniamo con Roberto Davide, abbiamo capito che la tua voce tenebrosa conquistava non poco il pubblico femminile, no? Insomma, questo fu un modo di fare, sicuramente incuriosiva l'ascoltatrice, no? Questa voce che... Come ti ripeto, la figura del DJ, dello speaker, ai tempi godeva di... Oddio, ne gode ancora adesso, magari in formula minore. Il DJ cuccava. Il DJ cuccava, a volte anche troppo. Vabbè, questo però magari questo lo tagliamo, perché non vorrei creare i problemi a casa, diciamo. Beh, ma era così, giustamente tu eri il maestro di musica, e regalavi le tue emozioni alla gente che veniva a trovarti, sia agli ascoltatori radiofonici che a quelli che venivano fisicamente a trovarti in discoteca. Senti Roberto, ovviamente in discoteca, tu parli di discoteca, è stata la discoteca una, come dire, un'evoluzione della radio oppure già facevi serate in discoteca? È stata un'evoluzione della radio, anche questa ti racconto un breve episodio, nata per caso, perché io all'epoca ero all'84, ovviamente già facevo dei mixati per radio, ma venne il proprietario di una discoteca di Legueglia, sempre in provincia di Savona e fece finta di chiedermi se volevo andarlo a trovare una sera perché doveva fare pubblicità in questa... E lì ti ha legato al mixer? Sono andato in discoteca e mi ha messo davanti... Questa volta non sono stato io a chiedere di trasmettere per radio come ti raccontavo all'inizio, ma in discoteca proprio sono stato messo, mi ha fatto mettere due, tre dischi, al quinto ho chiesto al residente, il ragazzo che faceva DJ in precedenza cosa accadesse e mi ha detto no, no, vai tu e da lì mi sono ritrovato. E quelle emozioni di questi live se ne puoi parlare? Ti faccio l'esempio grafico, facevo così perché all'epoca si usavano... adesso non si usano più neanche quelli con il panno e poi lasceva andare... col panno e c'era il braccio con la puntina facevo così un po' così col collo storto totalmente... un orecchio libero per ascoltare quello che andava in sala e l'altro invece per ascolto esatto si tremava si tremava perché giustamente c'era l'emozione come ti dicevo della gente ma c'era... le canzoni di allora che andavano in discoteca che ne ricordi qualcuna? beh, i grandi classici dell'Italo Disco adesso vado a memoria all'85 fu l'anno di Sandy Marton piuttosto che di... People from Ibiza bravo esatto o Chemo al Biker interversava anche i tombini suonavano Sandy Marton esatto The Narrow con Medisire dunque tutta quella dance la Italo Disco diciamo i nomi stranieri stranieri di artisti italiani giochettolo era il giocattolo gioiello verrà il gioiello denaro verrà il denaro insomma qualcuno se ne sarà accorto anche qualche anno fa però svegliamo anche questo segreto è vero erano tutti prodotti italiani tanti ancora non svevano suonavano veramente è stato un boom incredibile l'Italo Disco sicuramente è stato uno dei fenomeni in assoluto che sono avanti per la maggiore nel mondo della dance music dall'80 in avanti dai tempi della Peter Jack Band per dirne una fino a Walking on Music giusto bravo sei preparato fino al 2000 con il grande successo dei black box milioni di copie vendute in America in Inghilterra insomma in tutto il mondo è tuttora l'Italo Disco sotto altre formule magari ovviamente più ricercata funziona e funziona bene devo dire in tutto il mondo questa è una cosa che non si vendono più le copie che ti dicevo prima neve adesso perché il mercato in generale comunque il mercato della discografia internet purtroppo su questo diciamo che più che video kill da Radio Star internet kill il mercato discografico del Radio Music del Radio Music magari direttamente in radio oppure direttamente al lavoro un 24 hours voglio dire tu hai avuto la fortuna di fare questo lavoro solo questo da professionista altri invece alternavano un lavoro vero con il lavoro e la passione per la musica la radio la discoteca dunque fare tutto e due era veramente faticoso e a un certo punto uno deve anche selezionare magari devi dire no qualche serata in discoteca che comunque è una cosa che stai facendo ancora adesso però da diciamo da un po' di anni in particolare da qualche mese stai facendo anche stai facendo anche la radio in FM perché ha dei confini infiniti infiniti perché veramente può arrivare dall'altra parte del mondo prego raccontaci un po' si è un nuovo progetto denominato la radio è Altro Studio Radio Altro Studio Radio altrostudioradio.it così lo diciamo anche per io potete sintonizzare non adesso perché Roberto è qua ovviamente però in qualsiasi momento ascoltare Roberto e poi tutta un'altra serie di programmi si è una web radio intanto vediamo anche delle immagini che ti vedono appunto all'interno dello studio principale di Altro Studio Radio è una web radio che è stata pensata per un pubblico vastissimo nel senso che noi cerchiamo di tornare un po' a quella che era la radio in FM di cui parlavamo prima spazio anche agli ascoltatori addirittura dediche richieste quindi se volete potete farlo ovviamente ci appoggiamo molto su quelli che sono i mezzi di oggi social network come Facebook Twitter Instagram ed è easy da ascoltare perché abbiamo ovviamente la nostra pagina ufficiale come ha detto prima Altro Studio Radio punto it molto easy da ascoltare appena arrivate nella pagina c'è un player voi cliccate e da lì come per magia Altro Studio Radio mette musica 24 ore al giorno di qualsiasi genere con particolare predisposizione a quelle che sono le novità e anche non solo musiche ma anche all'informazione all'interno della programmazione della radio noi abbiamo molte rubriche dedicate perché il vostro claim è la radio pensata per te ma anche music and news 24 ore su 24 dunque la radio diciamo dei tempi delle origini degli albori più moderna grazie ai social e grazie a internet che vi permette di ascoltare veramente e senza vinili così non c'è non c'è vinili basta sono proprio spariti completamente anche in discoteca non si usano più i vinili ormai c'è ancora qualche locale che ci fa divertire a noi DJ di vecchia generazione nel senso che sono proprio sparite le console prima si portavano le valigie portatile ormai il computer portatile dovevi dentro tutta una si può trasmettere si può suonare si usa il termine suonare che non è il suonare dei musicisti che io rispetto suonare la musica suonare la musica con queste dimensioni queste è tutto qui c'è una serata è tutto lì dentro quindi sono finiti i tempi del porta dischi delle valigie che pesavano a volte anche 40 kg l'una certo è molto più comodo ma è molto più freddo la web radio non ha oddio se potrebbe suonare anche con i vinili non ti dà la sensazione di freddezza perché è una web radio anzi molto calda fatta studiata per gli ascoltatori a casa abbiamo un sacco di programmi se posso si si magari ricordiamo anche un numero di whatsapp di numero di whatsapp o sms 392 95 85 364 come detto www.altrostudioradio.it io personalmente sono in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 con disco train non potevo fare altro giustamente questo treno musicale si è un treno musicale una selezione di musica dance e di novità musicali che essendo noi in provincia di Milano pur non essendoci più i problemi arrivano in tempo reale molto spesso in anticipo come viene la scelta delle canzoni tu intanto sei un cultore nel senso che non è che arrivi il programma già fatto te lo prepari prima anzi a casa arrivi già con alcune canzoni che sei andato a scovare magari anche dall'altra parte si è una continua ricerca su adesso avendo internet a disposizione su quelle che sono le novità musicali del giorno ovviamente sono iscritto a parecchi gruppi ho dei siti che seguono esclusivamente le novità musicali del giorno io passo 3-4 ore della mia giornata ad ascoltare pezzo per pezzo scelgo quelli che a mio parere possono essere oltre le tre che ascolti il cuffio in diretta esatto insomma buona parte della giornata la avevi con la musica sì la canzone preferita di Roberto Davi in assoluto nei tuoi possiamo dire 30 anni di vita forse di tu sì dunque io vengo incredibilmente abbiamo parlato di 35 abbiamo parlato incredibilmente di musica di attività radiofonica più sono gli altri 15 da adolescente precedenti 50 anni la tua canzone preferita quella che quando la senti ancora ti dà le cosiddette farfalle nella pancia ce ne sono ce ne sono parecchie ma quella che ti ho citato in apertura che fu il primo disco che misi per radio ancora adesso forse perché mi ricordo all'esordio forse perché era proprio suonata bene rock and roll in disco king di Paul Sabu e poi va bene musica io sono un cultore a 360 gradi incredibilmente vengo dal mondo punk si ti è rimasto un po' il codino colorato è rimasto qualcosina doveva essere nero però no no i punk sono colorati non sono colorati perché io pensavo di andare al parrucchiere invece tu mi hai colto in fallo comunque approfitto e ti ringrazio dell'occasione ma diciamo che le origini musicali sono proprio punk gothic e new wave quindi nulla a che fare con tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso ma lavorando ovviamente in discoteca e facendo radio la musica dance nella mia vita è stata gli anni Ottavio insomma anche prima sì ecco beh sì adesso ho una particolare predilezione per le serate che magari sono dedicate al live anni Ottanta Novanta Settanta perché comunque la musica allora si suonava a differenza di adesso che purtroppo nel 99% dei casi ha fatto grandi nomi musica italiana? musica italiana sono stato tacciato di essere esterofilo ovviamente ma devo dire che dal dal 2000 2001 2002 qualcosina ho cominciato ad apprezzare devo dire che anche la musica italiana a mio parere è cambiata molto è in meglio incredibilmente seguo Sanremo ho avuto modo anche di fare l'impiato di Sanremo di Sanremo nonostante la mia stessa non è detto che tu non lo faccia anche l'anno prossimo non è che voglia leggere il futuro o come sì l'idea c'è il progetto però so che tra i progetti di Altro Studio Radio c'è anche quello di seguire il prossimo festival della canzone italiana dal 9 al 13 di febbraio del 2016 musica italiana sì ovviamente come tanti i vari rock da Vasco Rossi piuttosto che a Liga Bue a Lit Fiva primo periodo e anche qualcosa di melodico ma poco poco a Pausini tendo a remixare non potete mai prima di addormentarti la sera no no però ho dovuto dire a qualche ragazza di quella che tu citavi che piaceva anche a me perfetto intanto specifico perché Sterofilo non è il seguace del mio partito che non ho peraltro ma è uno che ama molto la musica ma io lo puoi meno quella italiana perché magari la musica straniera spesso se è unita al rock ti dà delle emozioni particolari di ricordi che restano negli anni ma la musica italiana è più commerciale e esaurita con la stagione poi magari non te la ricordi a meno che sia un grande classico di un grande artista torniamo alla Web Radio che tanto non ha paura invece di essere uccisa in quanto a star perché voi avete anche delle parentesi in televisione in Lombardia ma anche in tutta Italia la mattina c'è un programma in diretta tra le 7 e le 9 che si chiamano Le 7 con un grande caratterista grande come Sergio Sironi e poi ci sono tanti programmi nel corso della giornata alcuni dei quali soprattutto nel weekend durante la serata in prima serata vanno anche in televisione dunque c'è un rapporto anche con la telecamera e con il telespettatore esatto adesso sto abituando allo staff perché siamo tutti novizi a livello televisivo lo so anch'io non so se si nota ma lo so anch'io no no assolutamente e tanti programmi interessanti faccio due esempi veloci On the Road del mercoledì sera che è un programma che ci porta in giro per il mondo nel senso con DJ Tiba e Dario Bartolini guai se non lo nomi mi aspetta qui fuori ci porta in giro per tutto il mondo a farci conoscere le città sparse per il pianeta con le curiosità il movimento notturno piuttosto che la curiosità ieno gastronomica la scoperta del mondo grazie a una radio una radio web che magari è ascoltata proprio in quella parte del mondo a cui voi vi state riferendo insomma già andate in onda un paio di puntate una delle quali su Parigi è decisamente interessante non siamo entrati nel piccante lo faremo magari la prossima volta il muro in rouge esatto parlo di pigale zone varie numeri di telefono quelli che scottano avete tutto insomma in tutti questi programmi voi potete intervenire ripetiamo il numero di whatsapp che è 392 95 85 364 il venerdì sera c'è Casual Friday che è un programma che come dice il titolo non dico che è un calderone ma quasi è un venerdì casuale è un venerdì casuale l'ospite fisso è Massimo Buscemi che molti sicuramente io dico quasi tutti conosceranno interista attore interista attore esatto protagonista a quelli che è il calcio per una decina per una decina bene Roberto è stato piacevallissimo stare con te sono volate veramente questa mezz'ora insieme a te qui a Terminal 1 con Roberto Davi abbiamo parlato di musica di radio di musica in discoteca di serata in discoteca e anche di questa nuova tua avventura ormai da qualche tempo con le web radio dunque una radio che si può ascoltare in tutto il mondo e anche ovviamente su tutto il territorio italiano ricordiamo allora l'indirizzo per ascoltarti www.altrostudioradio.it grazie Roberto Davi grazie Riccardo grazie a voi per averci seguito alla prossima le vigne De Caro dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano le migliori uve il miglior vino dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro azienda agricola De Caro San Vincenzo La Costa 0984 40 42 08 i vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante